Nel cuore del jet set italiano, la bellissima Francesca Cipriani ha annunciato una notizia che ha fatto gioire i suoi numerosi fan. La celebre modella e personaggio televisivo è in dolce attesa. La notizia è stata rivelata durante una sontuosa festa organizzata da Cipriani stessa per celebrare il suo compleanno. La sorpresa è stata resa ancora più speciale quando la futura mamma ha tagliato una torta a tema con un adorabile cake topper raffigurante una famigliola felice. In un'intervista esclusiva con un noto magazine di gossip, Francesca ha condiviso la gioia della sua gravidanza, svelando di aspettare un bambino. «Sono emozionata e grata per questo meraviglioso dono della vita. Sarà un'esperienza incredibile diventare madre, e non vedo l'ora di condividere questo viaggio con la mia famiglia e i miei fan», ha dichiarato la futura mamma radiante. La notizia ha rapidamente scatenato un'esplosione di congratulazioni e auguri da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo, nonché da parte dei suoi numerosi fan sui social media. I follower di Francesca sono impazienti di seguire ogni momento di questa dolce attesa attraverso i suoi canali social, dove la star ha promesso di condividere dettagli intimi della sua esperienza di maternità. Mentre Francesca si prepara a intraprendere questa nuova avventura, l'intero paese si unisce nell'entusiasmo per questa notizia, augurando alla futura mamma una gravidanza serena e piena di gioia.